Riunione di maggioranza questa mattina in Regione, sul tavolo politico, tiene banco il tema della ricomposizione dell'Aggiunta, azzerata dal Governatore Toma e le modifiche all'interno del Consiglio regionale. Proprio su questo versante prende quota la modifica del meccanismo di sospensione degli assessori con la surroga in Consiglio dei primi dei non eletti. A volere il meccanismo attualmente in vigore fu l'allora Presidente della Regione, Paolo Di Laura Frattura, e la maggioranza di centrosinistra, varando in articolo mortis, a pochi mesi dalle elezioni, la nuova legge elettorale, esattamente la numero 20, del 5 dicembre 2017. Risvolto di quella decisione fu un ulteriore salasso per le già esangui casse regionali, con un aggravio di spesa di circa 3 milioni e mezzo di euro a legislatura. Una scelta, fu detto, che permetteva una maggiore efficienza del lavoro delle commissioni e dell'Aula. Sulla possibile revoca vi sono tuttavia opinioni discordanti che attendono il conforto degli uffici legali della Regione. Un dato di fatto però è certo. Al momento saltano sia la composizione delle commissioni consigliari, sia l'ufficio di presidenza della Regione, dove siedono sin da inizio legislatura consiglieri subentrati agli assessori. Sul piano più squisitamente politico si va invece verso una riconferma dei quattro assessori uscenti che hanno messo a disposizione del Presidente il proprio mandato. Resta fuori, e questo appare un dato certo, Luigi Mazzuto. La Giunta verrà nominata immediatamente dopo l'approvazione del bilancio, prevista per lunedì prossimo, ma la casella lasciata libera da Mazzuto non verrà al momento rimpiazzata. Sarà lo stesso Presidente probabilmente a tenere le deleghe. Se ne riparlerà a settembre, quando la legislatura sarà al giro di Boa e verranno ridiscussi tutti gli incarichi. In quella circostanza bisognerà procedere alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale e quindi l'occasione sarà utile a ridefinire le posizioni di maggioranza. Una delle ipotesi in campo è quella del rientro nelle file della Lega di Aida Romagnuolo. Potrebbe essere lei in autunno a sostituire Mazzuto, garantendo così una rappresentanza ingiunta al partito di Salvini, ma soprattutto blindando la maggioranza del Presidente Toma in Consiglio.